Sei una recluta e non vuoi perderti neanche un video di Rocket? Beh, facilissimo, premi la campanella per abilitare tutte le notifiche e seguimi sui social che troverai in descrizione. La pagina Facebook, il canale di Telegram e la nuova pagina di Instagram. Buona visione! Salve tutti, neanche te qui di Rocket e benvenuti ragazzi in questa nuova puntata della Egglock Randomize da Pokémon Ultraluna. Siamo qui ragazzi con questa incollatura un po' diversa, un po' più alta verso il divino della webcam per affrontare una nuova parte con la sfida a Guzman e probabilmente, ovviamente, andremo avanti ragazzi nei percorsi seguenti. Quindi percorso mi pare 11-12 e vabbè ragazzi quelli dopo nella parte centrale di Ula Ula. Ok, non ho allenato il team ragazzi, è sempre composto da 6 Pokémon che vedete nella grafica, quindi mi raccomando, massimo support, con un bel mi piace, un bel pollicione all'insù. Un commento qui sotto con la DG e come sempre una bella iscrizione ragazzi al canale del Rocket. Bene, in questa parte andremo a scliudere anche altre uova si spera, anche perché prima c'è il buon Guzman da affrontare ragazzi. Adesso c'è una bella festa con Cucui, le reclute del team Skull, veramente le papere delle ponte del giardino di Mali. C'è un sacco di gente ragazzi, tutti invitati, anche voi reclute. Quindi, eccolo qua, eccolo qua ragazzi, il bad boy Guzman, il grande capo del team Skull. E' arrivato il boss, con questa music che inizia proprio a rapparti nelle cuffie. Ragazzi, è la fine, è la fine, le belle host di Pokémon Assoluta Luna. Eccoci qua, udite un video signore e signori, siete per assistere alla sfida delle sfide, un evento memorabile. Il grande Guzman contro il professor Cucui. Chi vincerà? Beh ragazzi, facile dirlo, vincerò io Rocket, anche se non ci sono dentro, ma per il momento, per il momento solo. Adesso, adesso arrivo anch'io, arrivo anch'io. Bene, questo dialogo ragazzi, vabbè, non è nulla di che, è nulla di nuovo. C'è solamente uno sconto tra leggende e di Alola, quindi... Poi arriva Rocket, che è ancora più leggenda, quindi c'è poco da fare, c'è poco da fare. Ti presento Rocket, qui per scoprire, sperimentare e assaporare ogni momento della sua grande avventura. E poi vincerle tutte e acchiapparli tutte ragazzi. Non dimentichiamo mai le origini, ovvero Gada Ketchum All. Mi sembra giusto non dimenticare le origini. Da dove veniamo? Dai vecchi giochi. Povero illuso, prendi il tuo tempo. Ad ogni modo, Kukui, prima o poi io ti annienterò, ma prima ti suggerò il Rocket. Bene, proviamoci, giochiamo, Guzman, giochiamo. Via, via. Kukui, l'avevi detto che non hai allenato con Guzman, e invece mi hai mentito. Kukui, non mentire. Kukui, non mentire. Vabbè, Kukui sì, allora. Golurk. Ok, questo gigantesco golem, tipo terra, che è anche un fantasma ragazzi, per gli amici, quindi... Però c'è Giovannone. Giovannone, il grande fantasma ragazzi della serie. Quindi vediamo un po', chissà, il Pokémon Spettro migliore. Allora, io ho Spettotuffo, che dovrebbe togliere di più, effettivamente, tipo 90. Non lo so, però è fisico. Non lo so, io andrei con parlaombra. No, cosa ha fatto? Furtivombra? No, è Furtivombra sta cosa... Oh, calmati, calmati. Oddio ragazzi, ha Furtivombra stabbata. Beh, anche io lo stavo, però, cavolo, è più veloce di me, quindi mi sa che mi toccherà cambiare. Ma andiamo a disastro. Ragazzi, disastro. Ce la farà a fare un casino assurdo? Lo scopriamo subito. Disastro. Tutto rosso, tutto arrabbiato. Furtivombra. Un bel predict, ragazzi, così, non fa mai male. Guarda qua, mi fa addirittura un bel po' di danno, ma io ho finta che è stabbata. Adesso è un più veloce, ovviamente, quindi... Asciamo i saluti, caro Golurk. Guarda che ha scoppio! Guarda che ha scoppio! Pensavi di buttarmi giù il Pokémon. Scoppio! Ah, d'altro c'è un codico di videoesperienza attivato. Non lo so se conviene adesso attivarlo. Como Ho! Allora, Como Ho, Dragolotta, Dragolotta. Non ho più niente, tipo, folletta al momento. Dragolotta, eh? Io avrei Psicozanna, però. Psicozanna di... Del buon magico, ragazzi. Il magico Geridos. Ok. Buttiamo un magico, allora. Psicozanna potrebbe essere veramente ottima come cosa. Ok. Oddio, Shiny Como Ho! Oh, mio Dio! Tra l'altro, tra l'altro, ragazzi... Tra l'altro, male primordiale, che... Quindi il mio... Non è primordiale che io metto siccità. Però non si placa, perché è più potente, male primordiale. Tra l'altro mi sembra pure dominante, ragazzi, questo Como Ho Shiny. Guardate un po'. È veramente gigantesco, sì. Sì, sì, è dominante, perché non entra neanche nell'inquadratura. Ragazzi, è un Como Ho Shiny dominante. Pazzesco, signori. No, 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 no. Onda Shock, Onda Shock per quattro. Oh, mio Dio! Ho rischiato di perdere magico. Psicozanna, ragazzi. Quanto se ne danno questi due? Veramente, sono due giganti. Allora, non posso tenere magico per ovvi motivi. Quindi, visto che lui farà Onda Shock, mandiamo, ragazzi, il Sommo, il Somma, non quanto il Divino, Strike. Quindi vai, Strike. Fagli un po' vedere chi comanda qui, in questo giardino di Mali. Vediamo un po'. Assorbivolt. Pensavi. Un bel Predict. Non si nega mai nessuno. Quindi, 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 quindi. Quindi, pugni plasma. Finiamo con la potenza del Tuono. Tuono! E via, e via, ragazzi. Siamo levati. No! Oh, mio Dio! Colpo coda. Io continuo a fare Assorbivolt, perché, ragazzi, per forza. È l'effetto secondario di pugni plasma, questo. Beh, allora, a questo punto facciamo, non lo so, non lo so, forza sfera. Non saprei cosa fare adesso. Pugni plasma non avrebbe senso farlo adesso. Quindi vediamo un po'. Oh, ragazzi, questo dominante shiny. Veramente assurdo. Ma abbiamo vinto. Più Pokémon molto, molto distruttivi quelli di Guzman. Ecco, tra Goldwark, con Furtibombe e quel coso con The Shock su Gados. Ve lo sono veramente, veramente rischiata. Sei veramente forte. Grazie, grazie, Cucui Guzman. Professor Guzman, così. La buttiamo lì, ragazzi. Fondiamo i due nomi per fare un unico grande S. Dato che Junior, con il Supremo. Veramente muto. Proprio muto. Ok. Incredibile. Abbiamo vinto. Ma non... Ah. Tu sai Stiao? Dico, così la leggenda narra, evidentemente. Mamma mia, ragazzi. Povero, ah. Ho già stato sbeffeggiato da Guzman nei peggio modi. Rocket. La tua maestria nell'uso delle mosse mi ha lasciato a bocca aperta. Quasi dimenticavo. Uh, mi dai il Desiduenium. Giusto. Mi stavo dimenticando della pronuncia di questa cristale. Veramente, ragazzi, impronunciabile. Ah, la maschera. L'ho vista. Sei saprittoso, Rocket. Perfetto. Ah, invece ha perso contro chi? Contro il dominante. Contro chi ha perso, ah. Non mi ricordo più. Ah, sei veramente una delusione. Mi stai diludendo, ah. Cheat, ragazzi. Cheat dei grandi chef, veramente. Grandi programmi televisivi. Bene, bene. Allora, adesso dovremmo un po' seguire, se non ricordo male. So che siete dei tipetti in gamma, ma cercate di non strafare. Ma, datti una calmata. Datti una calmata, se non vuoi finire impigionata nel castello del Team Rocket. Quindi, fai, fai. Insomma, farti affari i tuoi. Ciaoone. Ok, ciaoone a tutti. Bye bye. See you next time. Ok, andiamo. Ragazzi, mi sa che mi devo un po' curare. Voi che dite? Che dite? Mi hanno fatto leggermente insedere questi qua del Team Skull. Il Goodsman era decisamente forte. Dannazione sarà forte il bad boy Goodsman, ragazzi. Ebbene, sì. E fanno bene a farlo da... A farlo come capo del Team Skull. Perché è veramente potente quel Goodsman. Anche nel gioco originale è un po' forte. Mi ha dato un po' di problemi, ragazzi. Con Mascherein. Con Goliso. Poi che aveva un attacco veramente assurdo. Un buon capo, ragazzi. Allora, devo andare finalmente. Dico finalmente. Nella parte centrale di Ula Ula, ragazzi. E per Ula Ula City si va da questa parte. Ok. Quindi percorso 11. 11. Allora, una bella cattura. Non mi arriva nessuno in questo momento. Ah. Calmati, Rotom. Calmati. Cos'è il... Cos'è il... Come si chiama questo potere? Non mi ricordo più, ragazzi. Tipo il... L'Euro and Roll. Lo chiameremo da quest'oggi. L'Euro and Roll. Allora. Ce la faccio? Oh. Oh. Un bel Pokémon. Un bel Pokémon. Tutto per me. Tutto per noi, anzi, del Team. Vediamo un po' chi è. Esulto. Esulto. Non più le mie gazzioni. Non ce le stila, ma... Uno Scatterbug. Yes. Con la lastra a prato. Certo. Molto, molto divertente. Però non siamo a Zelighe, quindi. Non fa ridere. Non fa ridere. Vai. Una bella Ultra Ball, ragazzi. Che fortuna. Assurdo. Scatterbug. Ragazzi, ci devi stare alla prima senza che io ti tocchi. Ti indebolisca. Eh. Eh, però. Eh, dai. Eh, non è possibile. Scatterbug è catturato, ragazzi. Che andava, ovviamente, nel box per un uovo. Che nella scorsa parte è stato Giorgio Vanni, nel scorso episodio. Quindi, veramente assurdo. Il grande capitano Giorgio Vanni. Eh, invia il box. Ha qualche mega pietra? Ah, no. Allora, sta appellato. Giusto. Rocket. Eh, veramente. Hai una memoria di un centoventenne. Se si può dire. Se no, non si può dire. È lo stesso. Quindi, nada. Guarda. Allora. Qua c'è la tipo un emetti, ragazzi. Che voglio prendere in quanto è randomizzata. Vediamo un po' cos'è. Campo elettrico. Vabbè. Eh, niente di che, ragazzi. Non mi servirà poi a tantissimo. Però, può essere sempre utile. Allora. La lotta in opa non me la faccio. Beh, o mai nella vita. Perché, eh. Ci bega troppo tempo. Se no. Quindi, mini fungo. Quindi, i puffi. Puffi confermati. E affrontiamo questo qua, ragazzi. Per il percorso undici. Wattah! Con cimina lotta. Ma chi sei? Goku? Adesso dice Urka. E, ragazzi. Dagonal confront. Veramente. Sì. Eh. Au. Au. Buongiorno. Buongiorno, Au. Cioè, di nuovo. Fur. Au. Questa volta. Questa volta nessuno leggendario. Poi gli shani. Gli shani non ci sono. Veramente, ragazzi. Gli shani non mancano mai. Veramente. Sicità. Sicità. Io lancio a fiamme. Ti potrei, ti potrei aprire. Ragazzi. Questo. Furret forma marshmallow, praticamente. Guardatelo. È uguale. È uguale. È una caramella. È Pokémon Sweet. È una caramella. Come? Come? Dai, ma perché? Ma perché? Va bene. Va bene, Au. Vuoi giocare? Giochiamo. Giochiamo. E sarà come rubare le caramelle a un bambino. Però mi ha fatto leggermente male questo aspetto tuffo, mi dicono. Leggermente male, Au. Leggermente. Andiamo un po'. Lancio a fiamme. Con sicità. Non gli fa sufficiente danno, purtroppo. Quindi mi toccherà cambiare, ragazzi. Di nuovo. Di nuovo con il mitico disastro. Vai, disastro. Fai un po' di casino. Un po' di bordello. Come si diceva un po' di anni fa. Vai. Spettro tuffo. Spettro tuffo. Proprio fissato, ragazzi, questo Au. Con questi tuffi. Veramente medaglia d'oro alle Olimpiadi di spettro tuffo, questo Au. E cosa faccio io? E cosa posso fare? Eh, di fare un bel gelodenti appena torna. Però io sono più veloce. No. 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 Posso attaccare subito, quindi, adesso. Gelo denti. Vai, disastro. Fagli vedere il ghiaccio. Yes. Grande disastro. Grandissimo disastro. Ragazzi, questo Au è sempre presente. Vuole sempre buttarmi giù il team. Maestro. Sono il tuo maestro. Esatto, Au. Finalmente ti sei inchinato alla potenza del rocet. Grandissimo. Maestro, perdono. Quindi il tuo maestro è un Beweer. Certo, maestro. Cosa mi dà? Adesso è un bel MT, se non ricordo male. Oppure no? Scaccia. Vabbè, ragazzi. Oggi le grandi MT. Però è signo confirmed. Scaccia Bluma. Mi spiace. È rivincita. Certo. Scaccia. Cosa mi servirebbe? Scaccia Bluma nella legione di Alola. Non lo so. No. Volevo spostarmi. No. La forza di volontà smuove Mali e Monti. Ancora un allenatore speciale, ragazzi. Questa volta un K1. Ah no, è Kukui, giusto. La musica dei campioni, questa qua. Vabbè. Kego Professor Pokémon con Brilum. Brilum. Dove c'è solamente una E. Ok, niente Shani. Questa volta però abbiamo un bel Brilum. Potrebbe essere, ragazzi, ostico. Quindi occhio. Occhio. Io ho 40 PS. Allora, dici che me la rischio troppo se faccio... O lanciafiamme o assalto. Potrei fare lanciafiamme, vediamo un po'. Rimbalzo. Ok, quindi non posso attaccarlo adesso con lanciafiamme purtroppo. Allora, lui fa rimbalzo. Fa rimbalzo. Quindi cosa potrei fare io, ragazzi? Potrei cambiare e fare Psico Zanna. Potrei fare così. Oppure il sporcolancio, una delle due. Vai! Il magico Kieridos del Rochet. Con siccità. Ragazzi, quando imparerò una mossa tipo fuoco fisica, sarò contento. Tipo fuoco carica, ruota fuoco, queste belle mosse qua. Non mi paralizzare. Grazie. E ora andiamo, ragazzi, con Psico Zanna. Una mossa veramente potente. Introdotta in settima generazione per Braxish. E non è sufficiente. No, a furore. A furore. Non ci credo. Acquanello. Acquanello. Acqualing, certo. Acquanello. Non è che siamo nella posizione più adatta per fare questo Acquanello, mi dicono, eh? Cioè, pure siccità non serve a niente. È inutile. È inutile quell'Acquanello. Fa schifo. Oddio, oddio, ragazzi, che disagio. Siccità Acquanello. Vabbè, vabbè. Sconfitto, Cucui. Ancora una volta. Oh, per il momento ho smosso solo un po' d'aria. Beh, con l'imbalzo ce l'hai fatta, evidentemente. Obiettivo raggiunto. Bravo, Cucui. Quindi, questo Keigo è andato. Qua cosa abbiamo? Le belle ultraboss. No, velox, davvero. Ragazzi, è una bolla, ma non mi ricordavo quale. Quindi, top. Allora, qua c'è la... Ah, c'è la tizia che va per le barriere, ragazzi. Veramente. Un grande compito. Grandi responsabilità questa tizia, eh. Veramente. Hai l'Electrum Z, quindi ti aprirò il passaggio per nuove avventure, per un nuovo mondo, per l'ottava generazione. Quindi, buttiamoci in l'ottava generazione, no. Ovviamente non in l'ottava generazione, però, ragazzi, quasi. Percorso 12. Ok, quindi adesso c'è la piccola api che ci disturba con il poche passaggio di Madsdale. Però, però, potrebbe esserci utile per il futuro. Ehi, Rocket, questa musichetta veramente mi mette in pace con l'anima, ragazzi, col divino. Eccoti qua, ti stavo proprio cercando. Ho pensato che se vuoi esplorare Ula Ula, il modo migliore è con il mio Madsdale. Hai pensato bene. Brava, brava. Ragazzi, una medaglia, prego. Una medaglia per api. Ok, la volevo... La volevo fare quando ci ero incontrati a Mali, però poi mi sono dimenticata perché Liglia è così carina. E mi sono innamorata. Ok, ok. Molto interessante. Una storia strappa l'alchim è questa. A proposito, conosci quelli di Ulta Patuglia? Sì. Sì, sono i miei compagni di picnic. Quindi, diciamo che bazzichiamo per queste zone. E niente. E niente. Così, è così la vita. E questa è la giornata. Allora, ragazzi, percorso 12. Questo qua è un percorso veramente che io non sopporto. Tanto qua c'è anche il porto di... il porto in cui torneremo, tra non molto, con Iridio e con Augusto. Allora, devo fare ancora una cattura qua. Quindi, fuori strada Mazzoli, ragazzi, che consuma veramente pochissimo di gasolio. Quindi, andiamo. E qua c'è una pokeball. Anche scottatura. Perché fa troppo caldo. Quindi, un po' di protezione ci vuole. Allora, qua, ragazzi, devo ancora fare la cattura. Però non compagno nessuno al momento. Sono un po' timidi i pokemon in questa zona. Qua cosa c'è? Qua c'è un bel percorso, ragazzi. Andiamo un po' a vedere dove ci porta questa piccola zona in un selvatico. Tanto posso fare anche la cattura del monte Tepore. Adesso che ci penso. Ma oggi, ma oggi, veramente, è tutto bellissimo oggi. È tutto bellissimo. Karla Blast. Ancora, ragazzi. Ancora un pokemon minuscolo. Che però Karla Blast è un pokemon interessante con la sua evoluzione, ragazzi. Molto interessante. È bella questa volta. L'ho trovata. Quindi, perché non usarla? Non c'è occhio che mi disturba quando non si possono fare queste cose ad una certa ora. C'è un tempo e veramente un luogo per ogni cosa. Quindi, catch. Ragazzi, Karla Catch è moda. Proprio come si diceva ai vecchi tempi. Karla Blast è catturato. E andrà anche lui, insieme a Scatterbug, nel PC. Per un vostro uovo. E poi c'è anche la cattura del monte Tepore, adesso che ci penso. Quindi, ci sono un sacco di catture, ragazzi, in questa zona di Gola Ula. Tra molte Tepore, vari percorsi. Non volevo darti un soprannome. Quindi, perché ti sei voluto dare un soprannome? Non lo so. Non voglio dartelo, grazie. A qualche mega pietra? Niente. Niente pietra, ragazzi. Peccato. Allora, io devo togliere i miei pochi passaggi in questo momento. Perché non mi serve. Voglio andare in questa rientranza qui. Cosa abbiamo qua? Allora, qua abbiamo diversi allenatori. Oddio, questa qua si è persa. Si è persa, statista. Cosa fa lì nell'angolo, scusa? Sta tenendo sulla montagna. Non lo so, ragazzi. Sembra di un pochettino sulla montagna, la parete. Vabbè. Vediamo un po' chi è questa. È Suiren. È ricca allenatrice. Ok, Suiren capitana. Ma benissimo. Oddio. È il divino. È il divino Shiny. È il divino, ragazzi. È il divino, ragazzi. Io quasi quasi... Guarda, gli lascio il campo. Ragazzi, la serie è finita. Mi lascio battere, sconfiggere dal divino. Quindi, un saluto a Rocket. Ovviamente no. Ovviamente no, ragazzi. Ovviamente no. Però, cosa potrei fare a questo divino? Allora, la mossa Z? No, non ha effetto. Non posso farla, purtroppo. Lancia fiamme. Eh, ragazzi. Devo bruciare il divino. Che vuole scappare. Ma non ha nessun alleato. Non ha nessun discepolo. Oddio, ragazzi. Save the divino. Hashtag nei commenti save... No, ragazzi. Ho scottato il divino. Ho scottato il divino. Ragazzi, assurdo. Ho scottato il divino. E questo qua, ragazzi, mi costerà veramente una punizione divina. Quando veramente sarà il momento. Nella prossima Soul Link, magari. E vabbè. È andata così. È andata così, ragazzi. Il divino è andato. Purtroppo... Eh sì, eh sì. Ragazzi, quest'oggi è di nuovo andato per la millesima volta il nostro divino Farfetch. Rip. Rip divino. Ma ce li incontreremo prima o poi. Prima o poi, in una Soul Link, o in una serie, ce li incontreremo. Ok, niente potere di Rotom. Grazie. Uh, c'è uno strumento. Un elisir. Ecco cos'è che stava osservando questa tizia. Allora. Tra l'altro qua, io, ragazzi, devo ancora fare una cattura. E dove mi sono infilato? In una zona... Non lo so, non lo so, ragazzi. Non lo so. Mi sono infilato in una zona... Oh, che bellezza questo King che ondeggia come le onde. Proprio fa un po' di danza, ragazzi. Danza delle onde, lo chiamavano. Il King... Uh! Alla prima Rignum Z. Non ci credo, non ci credo, ragazzi. Qualcuno fermi in questo scempio, veramente. Qualcuno fermi in questo scempio di serie. Allora, fatemi fuggire. Allora, qua c'è... Uh! C'è il tizio che suona la chitarra con la tavola da soffi. Guarda come suona. Più si sente che suona. Allora, ragazzi. Prima di andare a fare la cattura, voglio un attimo curarmi il team. In quanto voglio fare la cattura, poi scudere le uova e finire da parte. Tanto non ho più niente da fare. E nella prossima affronteremo il dominante Mimikyu. Randomizzato, ovviamente. Quindi vedremo un po' chi sarà nascosto con il dominante Mimikyu. Perfetto. Allora, questo mi affronta dopo. Dopo. Dopo, ragazzi. Dopo. Allora, qua c'è il monte tepore. Quindi cattura gratis. Vediamo un po' chi posso trovare. Qualcuno di... Easy. Easy da catturare, magari. Vediamo. 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 Vabbè, ragazzi. Oggi sono il maestro delle catture. Neanche il divino potrebbe fare così tanto. Dai, Rocket. Dai, Barboch. Con Giovannone, ragazzi. Che veramente è il vostro preferito, ormai, Giovannone. Veramente. Avete un amore per Giovannone che è qualcosa di assurdo. Assurdo, ragazzi. Quanto amate Giovannone. Vai, Ultrabold. Ultrabold. Vediamo un po' se riusciamo a catturare questo Barboch. Speriamo veramente di sì. È Gesù. È Gesù. Pisma laser. È Gesù. Vediamo, ragazzi. Il nuovo Gesù. Il nuovo Messia. È un Barboch. È un pesce. È un pesce. Il nuovo Messia è un pesce. Vabbè. Vabbè. Contenti loro. Contenti loro. Uno. Ce la farò questa volta a catturare il nuovo Messia. Tre. A questa... Staci Staboll. Ma no. Staci Staboll. Oh mio Dio. Staci Staboll. Non sei un'ultra creatura. Un Pokémon di ottava generazione. Sei un Barboch. Un Barboch. Staci. No, ragazzi. Adesso veramente... Adesso veramente... No. Adesso veramente... Veramente. Non ci credo che non ci sta un Barboch. Fa sempre tre giri e poi esce. Cioè, tu mi prendi in giro. Mi prendi in giro. Per forza. Per forza. È... È... Mi prendiamo in giro. Mi prendiamo in giro. È per forza, ragazzi. Dai. Non è possibile. Non è possibile una cosa del genere. È che... È che cavolo. Dai. E andiamo. Ashkosh sarà il 36 intanto. Mancherà tipo 10 livelli delle evoluzioni di Ashkosh. Barboch nel Dex. Quindi registrato, ovviamente, ragazzi. Il buon. Il buon. Divino. Barboch. Non coltanto divino, però. Niente nickname. È qualche strumento? Mi guarda questo qua? No, non mi pare, ragazzi. Nessuno strumento. È Kingler che aveva la pietra. Fantastico, ragazzi. Molto di poe non è che mi serve poi tantissimo, sinceramente. Infatti non affronto nessuno. Perché tanto non avrebbe molto senso. Però affronterò, ragazzi, in questa parte ancora. Questo... Oddio. Perché c'è questa host? Perché c'è questa host, ragazzi, della fondazione Eder? Direttamente. Abbiamo un bel dipendente. Questa host che mi piace veramente tantissimo, ragazzi. Molto movimentata questa host. Ok, buongiorno, dipendente Eder. Greg. Va bene? Greg, buongiorno. Bidoof. Il ritorno, ragazzi. Ma che bello è. Ma che bello è. Ragazzi, ma che bello è. Ma guardatelo. Ma è bellissimo. Ma è bellissimo quel Bidoof Shiny. È bellissimo. Che bello che è. Dorato, ragazzi. Veramente tutto d'oro. Veramente. È troppo... È troppo bello. Cioè, io sono abbagliato, ragazzi, dalla sua luce. Cioè, tanto Giovannone non gli fa... Giovannone scotta tutti, anzi. Mi stavo rimangiando le parole. E niente. Eccolo qua. Ho fatto questa host, ragazzi. Della fondazione mi piace tantissimo. Pugno scarica. Mi fa due PS. Tre PS. Signori, tre PS. Tre PS. Sommettate perché Shiny me l'ha fatta di tre. Se no me ne faceva uno, se va bene. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Strike sale al 36. Voglio imparare il Fulmin Denti. Fulmin Denti Stub. Che... È mossa fisica. Attenzione. Attenzione, ragazzi. Fulmin, però... Eh, però gli altri sono più potenti. 100, 120. 100 e... 80. No, è troppo... Non so se sia Stub. Non mi conviene, forse. Ho già pugni Plasma. No, facciamo, lasciamo così. Lasciamo così, ragazzi. Magico sono al 36. Voglio imparare calmamente. Però è assolutamente fisico. Non aveva molto senso. Be weird. Ok. Ok. Quindi è il momento di cambiare, appunto, con... Ragazzi, possiamo mettergli un po' diverso. E gli altri non sono molto indicati. È male. Devo mettere Magico. Magico. Per forza. Per forza Magico. Vai. Vai. La magia di Magico sta per invadere questa fondazione. Devo un po' be weird. Non è shiny. Peccato. Perché ha tutto adorato anche lui. Con siccità. Grande Magico. Allora. Ragazzi, ci restano ancora le uova poi da scudere. Quindi devo un po' sbrigarmi quest'oggi. Perché da parte siamo già a 23 minuti, quasi. Quindi devo fare in fretta. È dannazione. È dannazione. Sto fulmintenti. Tutti ce l'hanno. Tutti, eh. Ottono pugno. Onda shock. Fulmintenti. E datemi una calmata. E siamo in allegria tra amici. Mamma mia. Finalmente, ragazzi. Purtroppo con Grado. Su ogni mosso elettro è un rischio. Quindi devo fare un po' attenzione. Perché questo Greg era un pochino fuori controllo, Greg. È vero? È vero, Greg. È grandissimo. Allora. Non so quanto manca al prossimo centro Pokémon. Spero poco. Anzi, mi sa che mancherà poco. Allora, ragazzi. Devo fare un po' in fretta. In quanto non voglio fare una parte troppo lunga quest'oggi. Come al solito. Dai, non incontrare Pokémon. Grazie. E andiamo sul percorso 13. Oppure Villaggio Tapu. Questo qua. Non ricordo più. Percorso 13. Ok. Qua c'è tipo il discorso con Eridio. E Aus. Non ricordo male. E Rocket, sei tu. A quanto pare, se non... Hai visto me? Sono io, quindi. Quindi, fatto questo dialogo, ragazzi. È abbastanza inutile al momento. Allora, vedo un adesivo al dominante. Che prenderò per non lasciarlo indietro, ragazzi. Poverino. Al freddo, così. Della notte. Allora. Meglio, meglio prenderlo nello zaino. E basta. Allora, qua. Non possiamo fare catture, ragazzi. In questo percorso. È tutto bloccato. Qua non c'è assolutamente niente. C'è un altro adesivo al dominante, tra l'altro. Che ne ha già 23. Ok. Non ci sono catture a fare, se non ricordo male, qui. Non mi pare ci sia. No. Qua forse c'è... Si può pescare qua sotto, è se che ci penso. Ma pescherò, ragazzi, nella prossima parte. Quando tornerò un po' indietro. Se no, adesso ci metto veramente troppo tempo. Pietra Lunare. Ottimo. Ottimo. Ci metto troppo tempo. E devo già schiudere diverse uova, ragazzi. Quindi, una cosa per volta. Mi sa che per questa parte scriverò ancora, magari, due uova. E poi, una me la tengo per la prossima parte insieme alle altre. Allora, vi lascio Tapu qua. E c'è di nuovo Au qua, che mi disturba. Non mi disturba. Mannaggia a lui. Oh mio Dio, Au. Che sei uno strazio, quest'oglio. Sei veramente uno strazio. Il campionato dovrebbe essere lì. Ah, continuando la lista di Valmonte e la Nakhila. E in cima c'è la Lega Pokémon. Attenzione, ragazzi. Abbiamo veramente un grande, grande detective. Sa tutto, quest'uomo. Sa tutto. Oh, ma veramente, gli chiedi qualsiasi cosa? Lui ti risponde giusto. Assurdo. E no, 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 no. No, no. Ti prego. Lasciami andare. Devo schiudere le uova. Devo schiudere le uova. Ok, questo visaggio, infatti, sotto lo scenario dello sconto toitabu è lo splendente. Il divino. Ma non così divino come il Farfetch, ragazzi. Quello è troppo divino. Per qualsiasi cosa è troppo divino. Bene, bene, bene. Quindi ha rubato la luce di Alola, anzi, della Vulta Megalopoli. E fu l'inchiuso, appunto, nella torre della Vulta Megalopoli. La Vulta Megalopoli, appunto. Quindi una storia che sappiamo già. E vabbè, ragazzi. Ci sarà la parte finale del gioco. Poi dopo Pony, queste belle cose. L'altare Lunare, in questo caso. E la Lega. Ragazzi, un sacco di cose ci mancano ancora. Però siamo a buon punto, sinceramente. Siamo veramente a buon punto. Siamo alla prossima parte. Affronteremo il dominante di Ula Ula. Secondo. Quindi siamo veramente a buon, ottimo punto. Allora. Ragazzi, andiamo a scudere due uova per quest'oggi. Ovvero Scatterbug e Karadast. Quest'oggi ne voglio scudere due. Quindi vediamo un po'. Nella scorsa parte è arrivato al box. Questo qua. 10. Quindi oggi siamo all'11. Vediamo un po' chi mi ispira qua. Intanto abbiamo Pikachu Fake. Grandissimo. Oddio. Allora. Battista. Abbiamo Delusione, intanto ho visto. Divine. Z. Raikwa. Ok, quella Raikwaza lì spero non sia veramente un Raikwaza. Sennò veramente. Mundo. Peppa Pig. Oh mio Dio. No, vorrei scudere tipo Predator. Qualcosa del genere, ragazzi. Mi ispira il nome. Non so. Predator o Predator. Chiamatelo come volete. Ok, vediamo un po', ragazzi, chi potrebbe essere questo Predator. Predator. Chiamatelo un po'. Insomma, con la pronuncia che volete. E si chiuderà subito. Ovviamente no. Ragazzi, dovete mettere... Dovevate mettere l'Hedge Counter a zero. A zero bisogna metterlo. Comunque sia. Vediamo un po' chi sarà questo Predatore Supremo di questa serie. Vediamo un po'. Vediamo un po' chi sarà mai. Non so chi potrebbe... Eh, attenzione. Attenzione. È un Latios Shiny. Tutto fluo, fluorescente. Veramente bello. Beh, ci sta, ragazzi. Ci sta. Come nickname. Attenzione. Non è affatto male come Nick questo per un Latios. Ok. Predator. Molto bene. Predator. Insomma, è uguale, più o meno. Allora, quindi Predator. E andiamo qui con la O. Perfetto. Potrebbe essere veramente un'ottima alternativa, ragazzi. Drago Psico. Ottimo Pokémon. Ottimo Pokémon nel box 11, se non ricordo male. Quindi, top. Top. Come mi sembra, potrebbe essere davvero un'ottima, ottima cosa. Allora. Allora, manca ancora la Caravers, ragazzi, per questa parte. Poi siamo già così a 30 minuti, quindi staccherò l'episodio. Allora, vediamo un po'. Drago Psico, natura timida con levitazione. Ottimo. Drago Pulsar, volo, riprese, prisma laser. Beh, le mosse sono veramente ottime. Questo, ragazzi, è veramente da vedere. Allora. Quindi. Box 12, l'ultimo, ancora pieno. Mamma mia. Ci sono un sacco di Pokémon molto, molto belli qua. Margherita. Oddio. E... Cosa potrei scegliere, ragazzi? Alan. Demon. Potrei scegliere questo qua? Ok. Proviamo, ragazzi. Proviamo per il buonissimo Carra Blast, che andrà a finire qua. Alivelo 30. Ok, ragazzi. Come ultima cosa di questa parte, andiamo a scudere Demon. Subito. Quindi Edge Counter messo correttamente a zero. Ottimo lavoro. Vediamo un po'. Chi sarà questo Demon? Oddio. È un Pokémon demoniaco oppure è un Pokémon allegro? Vediamo un po'. Beh, 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 beh. Ha totalmente senso questa cosa. Quindi Demon, perfetto. Dai, ci sta, ragazzi. Giratina è un Pokémon che questo nickname ci sta calza a pennello. Ragazzi, quindi per quest'oggi direi che è tutto. È una parte abbastanza lunga questa. Quasi 30 minuti. Quindi, insomma, è già abbastanza lunga così. Allora, vediamo un po'. Lo mettiamo qui, ragazzi. E ci riprendiamo il nostro Gyaros. Quindi vediamo un po'. Giratina. Demon. Non Barbocci, grazie. Demon. Mamma mia, che mosse. Spetto Drago, Furba, come natura. L'evitazione di Geosfera con Oscuro Tufo, Palla Home, Dagartini, Drago, Boide. Cioè, le mosse sono qualcosa di assurdo. Grazie, grazie mille. Due Draghi abbiamo scuso in questo episodio. Bene, ragazzi. Nella prossima scuderemo anche l'uop per Barbocci. E andremo avanti nella prova di Mimichu. Per oggi, mi raccomando, ragazzi. Mazziamo il supporto con un bel like, un commento qui sotto. Come sempre, un bel iscritto nel canale. Per oggi è a Rocket. E' tutto. Quindi, un saluto a Rocket. E ovviamente, bye bye.